Questa trasmissione è offerta da Tecno2. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economy FWG. Sì, lo sappiamo, i friulani sono un popolo di emigranti, lo hanno sempre fatto nella loro storia, continuano a farlo, vanno in giro per il mondo a fare cose meravigliose. Alle volte non ci rendiamo conto di quanto siamo bravi e di quelle che sono le nostre capacità e che portiamo in tutti i continenti. Ma i friulani anche quando vanno all'estero, ci vivono magari da tanti anni, poi non dimenticano la loro terra d'origine, il cuore è sempre qui in fiuli e appena possono ci ritornano. E questa è l'occasione perché insomma si avvicina il Natale, ormai le feste natalizie stanno arrivando. E quindi quale migliore occasione per ritornare in famiglia, ritornare dei propri cari e ritornare a vedere la propria città, la propria terra. E noi questa sera vi vogliamo proporre alcune storie di questi emigranti che vivono in giro per il mondo, ma che proprio in questa occasione sono ritornati qui in fiuli. Ve le raccontiamo, facciamo un giro intorno al mondo, vi presento subito allora gli ospiti di questa sera, che ringrazio molto per essere qui e per dedicare anche un po' del loro tempo a noi, visto che insomma sappiamo che quando ritornano qui insomma il tempo stringe, ci sono tante tante cose da fare. Allora cominciamo subito a presentarveli, buonasera, ben arrivata a Miriam Ferrarin, responsabile finanziaria di Fender Italia che vive a Londra. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Sì, e buonasera anche a Silvia Pavoni, giornalista del Financial Time, anche lei vive da tanti anni a Londra. Grazie Silvia per essere con noi questa sera. Grazie a voi, è un piacere. Restiamo in ambito della comunicazione con un'altra giornalista, una collega, Ilaria Gianfagna, vive a Melbourne per gran parte dell'anno, ha fondato anche un sito, Just Australia, che dà tanti consigli per chi volesse andare a vivere in quel paese. Ciao. Grazie, grazie anche a Giulio Molinari, ingegnere aereo spaziale, qui ritorniamo in Europa, ci spostiamo a Zurigo, è project manager della Beyond Gravity. Grazie, buonasera. E buonasera a Gabriele Bressan, già colonnello dell'aeronautica militare, oggi in pensione, ma consulente di un importante multinazionale, vive da parecchi anni a New York. Buonasera, buonasera anche a Bressan. Allora, cominciamo subito questo piccolo in giro, in torno al mondo, come avevamo detto, con la storia di Miriam, che prima però di arrivare a Londra ha fatto un bel percorso, insomma vorremmo che ce lo raccontassi tu Miriam, insomma qual è stato il tuo percorso che ti ha portato fino a Londra. Beh, io per tanti anni ho lavorato in Italia nel settore del credito, soltanto che ero entrata nella morsa del precariato, quindi c'era un senso di insoddisfazione a livello personale e quindi ero alla ricerca di qualcosa di più stimolante. Quindi da qui la mia decisione di, prima di trasferirmi nel Regno Unito, però a Bristol, e diciamo che Bristol è stato un po' il mio trampolino di lancio per quello che ho fatto dopo. Sono arrivata a Bristol nel 2015, il mio inglese era molto basico, come quello che la scuola italiana insomma insegna, e inizialmente i miei lavori, non sapendo bene la lingua, erano molto basici, come quelli della maggior parte degli italiani, lavapiatti, barista, cameriera e così, soltanto che dopo, pian pianino, il mio inglese è iniziato a diventare più fluente e quindi anche le possibilità lavorative si sono migliorate. Dopo un anno e mezzo a Bristol ho deciso di rientrare in Italia perché dovevo fare un intervento e ho iniziato a cercare lavoro sperando di non trovarlo, però alla fine l'ho trovato e mi sono trasferita a Venezia e ho lavorato per un anno e mezzo in un istituto di credito. Soltanto che l'ambiente era sempre lo stesso, trovavo sempre le solite dinamiche di quando ho lasciato l'Italia e quindi avevo un grande sogno nel cassetto che era quello di viaggiare, la mia grande passione è appunto viaggiare. E qui stiamo vedendo alcune immagini che testimoniano questi viaggi. Quindi nel 2018, nel 2017 avevo fatto un viaggio nelle classiche due settimane di ferie in indonesia, in solitaria e avevo conosciuto molte persone che stavano viaggiando per un lungo periodo, non italiane, erano maggior parte anglosassoni, tedesche, olandesi, belghe e quindi tra la fine della scuola e l'inizio del lavoro prendevano un periodo della loro vita per viaggiare senza scadenze, che sia tre mesi, sei mesi, un anno. Quindi io al mio rientro in Italia avevo questa voce dentro di me che mi diceva No, devi viaggiare, devi fare la loro stessa esperienza. Ed era una voce che si faceva sempre più insistente, giorno dopo giorno. Quindi nel 2018, dopo vari mesi a pensare cosa fare, mi sono licenziata e ho preso un biglietto di solo andata per l'Asia. Sono partita con molti dubbi e poche certezze, perché non sapevo se ero in grado di affrontare una cosa del genere. Poi alla fine è una cosa che ho costruito giorno dopo giorno e quel viaggio è durato un anno. Al mio rientro in Europa, non avevo voglia di ritornare in Italia, perché dopo un anno di esperienze positive, aver visto altre culture, aver viaggiato il mondo, insomma l'Italia non mi sembrava il posto più adeguato. E la mia scelta è ricaduta nuovamente sul Regno Unito. Però questa volta, anziché Bristol, mi sono trasferita nella capitale inglese a Londra. Ed era il 2019. Diciamo che io già in Asia volevo lavorare in un aeroporto, quindi sono ritornata in Europa con le idee molto chiare su cosa volevo fare. Appunto per questa mia passione per i viaggi. Poi avevo avuto una zia che faceva l'hostess, quindi anche un po' di famiglia. E avevo questa passione per viaggi aerei. Sono rientrata a Londra nel giro di tre settimane, avevo già fatto tre colloqui, tra cui in una società di catering, in una banca araba, all'aeroporto di Itrov. Quindi io sono arrivata all'aeroporto di Itrov e ho detto, no, questo lavoro deve essere mio. E alla fine è stato così, nel senso che dopo una settimana dal colloquio mi hanno fatto l'offerta e io sono stata assunta all'aeroporto, lì gestivo la parte fornitore per una delle aziende di British Airways. Peccato che sia arrivata la pandemia poi, no? Poi è arrivata la pandemia, le cose si sono un po' modificate ed è il motivo per cui ho cambiato settore. Adesso appunto lavoro per l'azienda di strumenti musicali, fanno chitarre, la Fender. Che non è una azienda qualsiasi, perché se dici chitarra, insomma, uno viene in mente subito la Fender. O le Gibson, sì. Diciamo che è una marca molto conosciuta e quindi hanno il centro EMEA a Londra e quindi attualmente sono in questa bella realtà. E poi, insomma, ti facciamo raccontare anche qual è, insomma, il risvolto, come si lavora in questa azienda. Ci spostiamo, dopo torniamo anche a Londra, però prima vi porto a Zurigo con l'ingegner Giulio Molinari, appunto, come dicevo, ingegnere aerospaziale. Insomma, se ci racconti anche tu questo che è stato, insomma, questo percorso che ti ha portato fino a Zurigo. Insomma, non molto lontano, ma, insomma, ingegnere aerospaziale ci fa già vedere degli orizzonti più ampi. Beh, un viaggio che è iniziato, diciamo, prima di muovermi verso Zurigo, mi sono mosso a Milano per i miei studi di laurea specialistica e laurea tennale, dove ho seguito inizialmente il mio interesse e la mia passione per l'aeronautica. Ero, diciamo, un pochettino fissato su questo aspetto, ho detto, ma sì, ingegneria aeronautica mi sembra un qualcosa che mi dà interesse, mi dà la motivazione per studiare questi argomenti che sembravano assai avanzati all'epoca. E continuando con questo interesse, dopo aver fatto il mio lavoro di tesi, mi sono fermato un pochettino a Milano, ho fatto la segnissima di ricerca, stavo pensando di fare un dottorato a Milano. Quando poi mi è giunta un invito dal Politecnico di Zurigo, dove mi dicevano, ma cosa ne pensi? Abbiamo queste proposte per un lavoro di dottorato da noi, ci sono questi argomenti, sembravano molto interessanti e così ho deciso di, diciamo, di passare oltre le Alpi e di vedere, di conoscere un pochettino di più quello che mi potevano offrire. E mi sono fermato poi per i 4-5 anni successivi a fare un lavoro di dottorato su velivoli con ali adattive, qualcosa di un po' da nerd, se possiamo mettere in questo modo. Sì, anche col suo fascino però. È assolutamente affascinante, ma era appunto una nicchia. Alla fine anche forse questo... Tanto per capire, insomma, anche a casa ali adittive, cosa significa? Praticamente al posto di avere delle ali con delle componenti discrete che si muovono, come quelle nelle aeree convenzionali con flappe e alettoni, con un lavoro che si vede in sua impressione adesso, abbiamo realizzato un aeromodello dove le ali si deformano in maniera continua al posto di avere degli alettoni fissi, si cambiano forma, diciamo ispirati dal mondo naturale, o meglio questo è l'obiettivo, cercare di copiare il volo degli uccelli. Qui si vedrà come in realtà anche solo deformando leggermente queste superfici l'ala cambia forma e riesce a controllare il volo del libro. Il sogno che aveva Leonardo, diciamo. Ah sì, assolutamente, era un sogno che in piccolo siamo riusciti, o come questo era un modello, siamo riusciti a far diventare realtà. Ecco, possiamo dire così. E dopo questa permanenza in Accademia, sono andato a lavorare per la ditta Beyond Gravity, dove mi occupo di parti di lanciatori di satelliti, praticamente uno dei nostri prodotti principali è la parte che sta in cima al lanciatore dei satelliti, come si vede qua, questo è un lanciatore Marian 5, la parte che si apre e che permette al satellite poi di essere rilasciato nell'orbita, lo protegge durante l'ascesa. Sono dei componenti estremamente di dimensioni generose, possiamo dire, si tratta di una 15-20 metri di lunghezza, e coprono appunto il satellite durante il tragitto in atmosfera. Sono solo satelliti o anche navette spaziali e cose del genere, che possono trasportare anche insieme le persone, visto che adesso sono tornato abbastanza in auge questa voglia di scoprire l'universo? Assolutamente, beh, i lanciatori che abbiamo in Europa per ora sono dedicati solo al lancio di, non di persone, però gli sviluppi prossimi, già ora c'è interesse e c'è ricerca per lanciare, per ottenere un accesso indipendente allo spazio da parte dell'Europa, senza più utilizzare lanciatori americani oppure appoggiarsi ai lanciatori russi. Abbiamo visto proprio questa settimana che sono arrivati gli ultimi messaggi da Marte, di un'attrezzatura che ci ha mandato per molti anni, dei tweet da là e che adesso ha finito l'energia e che quindi, però, insomma, la voglia di esplorare l'universo è insita nell'uomo. Sì, sì, è assolutamente un campo in continua evoluzione che, diciamo, cerca sempre di spingere i confini di quello che è tecnicamente possibile. Quindi, da un punto di vista ingegneristico, è assai interessante ed è quello che mi motiva a lavorare per questa ditta. Nonostante la Svizzera sia una nazione relativamente piccola, riesce comunque ad avere certe capacità tecniche all'avanguardia. Sì, e anche economiche, aggiungo io. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi, insomma, dobbiamo ancora vedere l'Australia, New York, a tra poco. Di nuovo insieme con Economi e FWG, ecco, lo vedete dal titolo, visti da lontano, sono i friulani che vivono nel mondo e che sono ritornati a casa per le vacanze di Natale, per stare in famiglia, per riscoprire un po' una parte del friuli che è sempre nel loro cuore. Abbiamo sentito nella prima parte di trasmissione, insomma, due storie, quella di Miriam Ferrarin che vive a Londra e quella di Giulio Molinari che vive a Zurigo. Adesso ci spostiamo dall'altra parte del mondo, in Australia, dove per buona parte dell'anno vive e lavora Ilaria Gianfagna che ha fondato un sito, Giast Australia, che, insomma, dà i consigli agli italiani, magari friulani, che vogliono andare a vivere in quel paese, che, insomma, è un paese un po' particolare, insomma, quindi per entrarci servono determinate caratteristiche. Allora, Ilaria, com'è stato il passaggio? Perché hai lasciato il friuli? E com'è nata l'idea, insomma, di dare vita a questo sito? Allora, beh, ci sono infatti un sacco di cose da raccontare quando si tratta poi di parlare della propria vita. Allora, possiamo dire che io ho vissuto a Udine, ho studiato a Trieste e poi, in generale, ho sempre avuto la passione per i viaggi, sempre voglia di vivere all'estero, scoprire un po' come era là fuori, non tanto per scappare, come si usa a dire adesso, ma più che altro proprio per la curiosità di vedere cosa c'è oltre Udine, oltre il friuli, insomma, e questo mi ha portato poi ad andare a vivere due anni in Inghilterra, ho vissuto anche in Spagna, poi sono tornata a Udine, ho lavorato qui come giornalista, come collega di Daniele, infatti, e dopo cinque anni trascorsi a Udine, comunque in me rimaneva comunque il desiderio di andare a provare una nuova esperienza all'estero, e, se vogliamo, l'Europa era già stata coperta abbondantemente, quindi ho pensato di andare molto lontano questa volta e sono andata in Australia, dove mi sono trasferita nel 2014, un po' per caso, dire la verità, non era proprio molto studiato, tant'è che sono partita con un visto turistico e, dopodiché, dopo qualche settimana, ho cominciato a ricevere un sacco di richieste, ma come ti trovi, ma come stai, ma com'è bella l'Australia, ma che lavoro fai? E quindi, insieme a Stefano, che è attualmente il mio socio Stefano Riva, che anche lui è di Udine, abbiamo pensato, beh, ma possiamo fare un'agenzia per aiutare gli italiani a trasferirsi in Australia, un po' a destreggiarsi con la burocrazia dei visti, che è effettivamente piuttosto severa, insomma. Com'è stato l'impatto con l'Australia? Perché abbiamo sentito Miriam prima raccontava, sono andata la prima volta in Inghilterra, insomma, a fare la lavapiati, di fatto, che è un primo step che può essere visto anche in altre occasioni. Ecco, si sa che anche quando si arriva in Australia dicono, va, ti mandano a raccogliere i pomodori all'inizio. È vero? Beh, infatti, questo è un po' quello che si pensa, in realtà, poi quello che succede, hai ragione, è che si va a lavorare in una fattoria per tre mesi per poter rinnovare il visto, quindi non solo un anno, insomma, di permanenza in Australia, ma per poter stare tre anni. Gli australiani sono molto furbi e si sono inventati questa regola che chi lavora per tre mesi in una fattoria può poi ottenere un secondo anno di visto, un terzo anno di visto. Quindi, in realtà, poi, non è obbligatorio. Infatti, io sono andata in Australia anche più tardi del previsto, insomma, sono partita a 32, 34 anni, adesso neanche me lo ricordo, ed ero già troppo in là con gli anni per fare questo tipo di esperienza. E quindi, io mi sono iscritta a un master universitario. Detto questo, per rispondere alla domanda come è stato l'impatto, ma io sono una grande entusiasta di qualsiasi cosa, sono sempre molto ottimista, quindi per me è tutto bellissimo, in realtà. Quindi, risponderò sempre molto positivamente a tutto. Poi, devo dire che aver vissuto in Inghilterra mi ha aiutato tantissimo, perché già parlavo inglese e quindi l'esperienza è stata estremamente positiva. Però, in generale, devo dire che è un posto dove la gente è molto gentile, altruista, generosa. Quindi è un luogo dove si sta bene, la qualità della vita è altissima, la natura è meravigliosa e quindi è facile ambientarsi e dire ah, effettivamente qui mi trovo bene, c'è uno stile di vita molto positivo. Ecco, per quanto riguarda, insomma, il sito, insomma, diamo, approfittiamo, diamo qualche consiglio, naturalmente, ai friulani che adesso stanno pensando, magari ragazzi giovani, insomma, che sognano l'Australia, ecco, come muoversi. Certo, allora, diciamo che da un'agenzia, insomma, nata da due persone che lavoravano in uno sgabuzzino, poi abbiamo aperto anche una sede a Sidney, abbiamo aperto una sede a Milano ed è questo anche il motivo per cui io sono spesso in Italia, abbiamo poi dei dipendenti, dei collaboratori, quindi ci siamo ingranditi, lavoriamo anche con un avvocato che si occupa di visti, che si chiama Riccardo e che è anche nostro socio adesso e che lui si occupa dei visti permanenti, del passaporto australiano che sono le pratiche più complesse. Quindi, in generale, poi negli anni l'agenzia è andata bene, fortunatamente, quindi siamo tutti anche molto orgogliosi di essere state un po' le persone che io sono partita con l'idea di fare un'esperienza all'estero e poi mi sono ritrovata a creare un'azienda all'estero, quindi sicuramente c'è stato anche un passaggio molto positivo, per fortuna, e in tutti questi anni abbiamo dato e diamo consiglio, sbrighiamo pratiche di immigrazione per persone che principalmente vengono da tutta l'Italia e che vogliono trasferirsi in Australia per un periodo oppure anche per tutta la vita. E allora, grazie Ilaria. Adesso ritorniamo a Londra, l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione, lo rifacciamo con un'altra collega, Silvia Pavoni, che è una giornalista del Financial Times che lavora a Londra ormai da tanti anni. Insomma, anche lì, qual è stato il percorso che ti ha portato in un giornale sicuramente top a livello mondiale? Allora, il percorso è stato del tutto casuale, forse è il filo che ci conduce potenzialmente tante delle storie che ascoltiamo stasera. Ho studiato Economia e Commercio a Venezia, sono di Udine, friulana doc, ho studiato a Venezia e ho iniziato magari ad avere un interesse verso le cose nuove, le cose straniere durante l'università, quindi ho fatto dieci mesi di Erasmus, un anno di Erasmus in Spagna e da lì poi ho pensato beh, continuiamo, continuiamo a vedere cos'altro c'è. Quindi parliamo un po' di inglese, la Spagna l'avevo già visitata, ci avevo già vissuto, ho pensato di andare a Londra. Quindi sono arrivata a Londra all'avventura, ho bussato a tante porte, ho trovato uno stage alla Camera di Commercio di Londra che era bello da avere nel curriculum e vi racconto che l'affitto invece era pagato da un lavoretto che facevo due giorni e mezzo a settimana in un ufficio che raccoglieva scommesse su eventi sportivi dall'Italia perché c'era un voto normativo e quindi ci chiamavano e mi chiedevano... E quindi non si poteva scommettere all'epoca, diciamo, in maniera legale. Sì, ora non so come sia la questione ma siamo al tempo e mi chiamavano dalla ricevitoria del Lazio e mi chiedevano, signorina, ma la Lazio vince secondo lei stasera? Io prendevo le scommesse, le mettevo nel mio sistema e quello mi pagava l'affitto. Quindi abbiamo tutti iniziato in qualche modo arrangiandoci, no? come magari anche tradizione degli italiani e dei frilani soprattutto che lavorano sodo e che riescono a sbarcare lunario. Quindi questi sono stati i primi due o tre mesi e poi ho trovato un lavoro nel settore dell'editoria, in una casa editrice e poco dopo è arrivato il lavoro al Financial Times per cui dove sono rimasta poi per... a febbraio saranno 18 anni, quindi tanti anni, a Londra sono invece da 23 anni. Quindi questo è stato il percorso al Financial Times ho fatto tante cose diverse, quindi potete immaginarvi sono cose... è un giornalismo finanziario, appunto quindi relativamente tecnico, però per grandissima parte del mio percorso al Financial Times ho viaggiato molto su produzione america latina, un po' in Asia e forse insomma date una cosa interessante. Ecco qua, questa è un'intervista che hai fatto, insomma una personalità abbastanza importante te la faccio raccontare ecco questa intervista. Ecco qua mi vedete con i capelli fatti meglio, non sgardufati come adesso stie le vacanze. Quindi questo non era né in America Latina né in Asia, era a Laia ed era al Palazzo Reale la persona che mi vedete intervistare è la regina Massima D'Olanda, Maxima D'Olanda. Non che il mio lavoro comprenda intervistare le famiglie reali, però la regina in questo caso è anche una special advocate, adesso non vorrei tradurla in modo sbagliato quindi uso il termine inglese, parlavamo prima delle difficoltà del tradurre, credo tutti di rimanere fedeli all'italiano però certi termini non sempre si prestano alla traduzione, quindi la special advocate delle Nazioni Unite sul tema dell'inclusione finanziaria. E quindi sono riuscita ad avere questa intervista proprio al Palazzo Reale, tra l'altro è una persona gentilissima e vi voglio dire che la sua, non so se fosse l'assistente privata o comunque qualcuno che lavorava all'interno dello staff della regina conosceva Udine e le parlava di Udine e le consigliava di visitare Udine, quindi la regina D'Olanda sa che esiste Udine e che è bella. Ecco questo per dire di come insomma abbiamo visto la tenacia, la creatività che porta i programmi in giro per il mondo e poi anche a realizzare delle cose molto belle a livello professionale e poi insomma dall'altra parte c'è il fatto che questo serve anche per far conoscere la nostra regione che insomma agli occhi del mondo è sicuramente molto piccola ma che è ricca insomma di intraprendenza e di creatività e di laboriosità soprattutto, no? Credo che anche lì a Londra insomma l'italiano ecco magari insomma l'italiano non è sempre visto insomma in maniera proprio così cristallina però insomma a questo serve anche insomma a dimostrare che ci sono italiani e frulani che fanno bene il loro lavoro. Assolutamente e tra l'altro vi posso dire che comunque all'interno del gruppo Financial Times c'è un gruppo di italiani tutti super in gambe ed è vero che c'è comunque guarda c'è comunque c'è un po' di così non siamo sempre visti come l'italiano non è sempre visto come la persona professionale no? Perché ecco però alla fine tutte le persone italiane che conosco all'interno del Financial Times ma anche altrove ci stiamo stiamo andando avanti bene tutti ecco quindi alla fine i fatti i fatti parlano da soli senza senza l'accento alla fine insomma lo riusciamo ad eliminare a meno importanza parlando dell'imprenditorialità di tutti noi dei frulani noi in particolare ti posso anche dire che all'interno del gruppo Financial Times adesso sto facendo una cosa che in realtà è una piccola impresa una piccola start up di nuovo per usare per usare un termine un termine inglese quindi ho creato un dopo averne parlato con un membro del consiglio di amministrazione appunto del gruppo ho lanciato un nuovo sito che che tratta di temi della sostenibilità che è questo nuovo argomento insomma tutti più o meno siamo a conoscenza dal cambiamento climatico ma anche a temi un po' più ampi quindi che hanno a che vedere con l'ambiente che hanno a che vedere con la diversità ambientale in senso più lato ma anche con i temi sociali no? quindi parliamo di del personale che viene pagato un minimo che gli permetta di avere una vita dignitosa eccetera e abbiamo visto che poi in questi giorni c'è un po' di tumulto proprio lì insomma in Gran Bretagna per per la questione dei salari insomma l'abbiamo letto l'abbiamo sentito esattamente tra l'altro è il momento un po' della rivolta se vogliamo in qualche modo il momento in cui uno alza la voce insomma si fa sentire hai ragione una cosa anche relativamente poco comune per il Regno Unito e la cosa da notare che le infermiere che sono c'erano gli applausi durante la pandemia quindi a una certa ora tutti si trovavano facciati alla finestra ad applaudere i medici ma tutti pensani tutti chi lavorava appunto all'interno della sanità e adesso le infermiere si trovano a doversi operare perché ritengono che non siamo molto lontani da quello che sta accadendo anche in Italia perché naturalmente la pandemia ha portato un grande stress su tutto il personale sanitario che insomma reclama condizioni anche migliori insomma dal punto di vista dell'ambiente lavorativo grazie intanto a Silvia ci fermiamo poi insomma dobbiamo andare a New York insomma la grande mela il fascino dell'America tra poco ancora in compagnia di Economa e FWG abbiamo fatto questo giro intorno al mondo siamo andati in Australia siamo andati a Londra siamo andati a Zurigo con alcuni degli ospiti che sono qui lo ricordo insomma friulani che stanno vivendo all'estero e lavorando e che insomma per le vacanze di Natale sono rientrati in Italia adesso andiamo a New York con Gabriele Bressan che è stato un colonnello dell'aeronautica militare oggi è in pensione ma oggi è consulente di un importante multinazionale proprio a New York allora Bressan sicuramente è una carriera affascinante dal punto di vista militare in giro per l'Europa prima di arrivare in America però insomma poi il sogno dell'America New York ha sempre particolare fascino beh sì dovrò essere un po' più conciso dei miei amici qui perché sono un po' più un po' meno giovane e quindi c'è un po' più prolisso perché forse c'è più esperienza da raccontare sì però devo concentrare un pochino le notizie quindi partenza dal Malignani il solito percorso che fanno molti ragazzi dal Malignani all'aeronautica militare 30 anni in aeronautica militare con 9 trasferimenti di cui 2 all'estero in particolare 7 a Monaco di Baviera e poi altri 4 a Dusseldorf ho lasciato l'aeronautica dopo circa 30 anni con vari movimenti e vari ruoli e poi ho avuto l'opportunità di diventare consulente essendo appunto pensionato non avrei potuto essere un impiegato diretto quindi sono diventato consulente di una importante multinazionale del settore aeronautico che ha dei rapporti contrattuali con le Nazioni Unite nella fattispecie per attività di sorveglianza umanitaria e anche diciamo di mantenimento della pace in zone critiche del centro Africa viene fatta un'operazione di sorveglianza e di ricognizione per prevenire e proteggere le popolazioni soprattutto prevenire attacchi da parte di ribelli o di bande organizzate o di criminali quindi questo è il ruolo più o meno di questo mandato la sede è appunto New York dove ci sono le Nazioni Unite e c'è anche un'ambasciata che supporta questa attività delle industrie nazionali presso le Nazioni Unite in qualche modo facendo da interfaccia perché l'Italia è un importante contribuente delle Nazioni Unite c'è una sorta di compensazione dal punto di vista diciamo questo interesse che è il congiunto dell'industria nazionale dell'ambasciata che è lì a New York nei confronti delle Nazioni Unite questo è in essenza quello che è stato il mio percorso in estrema sintesi New York la conoscete da ormai voglio dire le notizie sono molto diffuse su New York è una città molto particolare un po' acervo di razze entità e religioni e in questo contesto in questo momento di crisi un po' particolare ci sono graduali aumenti di povertà e di anche sacche di criminalità e quindi la città è un pochino è un pochino in una condizione un pochino critica rispetto agli anni passati ecco ecco la differenza tra l'era Trump e Biden insomma come è stato vissuto questo passaggio sappiamo che ci sono un po' due anime no? sì 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 la diversità è visibile è percettibile soprattutto perché è avvenuto questo famoso periodo della pandemia in cui ha mollato Biden ed è subentrato e poco dopo si è mollato Trump ed è subentrato Biden diciamo la percezione che ci sia diciamo la città di New York sapete tutti che è una città particolare ed è diversa un po' dal profondo dalla profonda America diciamo degli altri stati quindi si vive in una condizione un po' particolare la città è molto avanguardista è molto impegnata dal punto di vista del sociale è molto trasgressiva se vogliamo anche in termini di approccio alle varie nuove tendenze che ci sono gender e poi l'ecologia tutte queste tematiche molto profonde molto sentite e molto diciamo attuali soprattutto in un'ottica ecco la città è rivolta soprattutto a una proiezione futura avanzata a differenza diciamo un po' di quanto si percepisce in Italia anche in Europa le proiezioni avanguardiste della città sono molto proiettate nel futuro con grandi intenzioni di innovazione con proclami importanti e quindi c'è tutto questa particolarità della città che ripeto è strettamente particolare rispetto al resto dell'America dove si percepisce invece una situazione una condizione molto più tradizionalista e molto più diciamo simile alla condizione europea ecco è veramente insomma la città ideale insomma come ce la immaginiamo noi insomma New York l'America o ci sono naturalmente anche lì dei lati per così dire negativi sì sì assolutamente assolutamente diciamo che la città come dicevo è gradualmente peggiorata dal punto di vista ha subito un po' questo impatto con la pandemia quindi c'è un graduale aumento della criminalità è cambiato anche il governatore il sindaco sono un po' più permissivi per la loro natura diciamo e c'è una c'è soprattutto i grandi subborghi io abito a Manhattan dove c'è la percezione del benessere e della ricchezza in assoluto ma le grandi le grandi diciamo comunità che sono ai margini della città parliamo di Bronx Brooklyn anche parzialmente Queens lo stesso sono delle sacche di dove c'è dove si percepisce un graduale ritorno alla povertà o alla semipovertà sicuramente per quanto riguarda il centro della città invece è frequentatissimo dai turisti di nuovo ha ripreso a pieno ritmo l'attività diciamo economica commerciale con questo grande afflusso di turisti e quindi diciamo che non si percepisce neanche la crisi diciamo che invece è un po' più diffusa perché c'è un'inflazione un po' più alta e quindi si soffre un pochino di più rispetto alla condizione molto molto di alto benessere che c'è sempre stato in America insomma soprattutto a New York ecco eh sì Miriam com'è lavorare insomma in un'azienda come la Fender anche per capire quali sono le diversità insomma a livello contrattuale di lavoro che ci possono essere con l'Italia beh io volevo iniziare volevo segnalare due cose molto importanti che sono prima quello che succede prima di entrare nel mondo lavorativo che sono la compilazione del curriculum nel Regno Unito non è necessario inserire la data di nascita per cui le aziende possono capire quanti anni hai più o meno dalle tue esperienze lavorative e un'altra cosa in fase di colloquio non mi è mai stato chiesto niente sulla mia vita privata cosa che qua in Italia insomma era successo diverse volte e io ho iniziato in entrambi i lavori sia in aeroporto che alla Fender con un contratto a tempo determinato e nel breve periodo hanno visto gli sono piaciuta insomma il mio modo di lavorare e nel giro di qualche mese mi è stato offerto il permanent job quindi adesso io ho un contratto a tempo determinato e diciamo che una città come Londra è molto stimolante molto grande è un importante centro finanziario quindi anche le possibilità e le opportunità di cambiare lavoro se non ti piace se non ti trovi bene sono molte quindi sì allora adesso che abbiamo insomma raccontato un po' chi siete cosa avete fatto vi chiedo insomma qual è il vostro rapporto con la nostra regione con il Friuli ricordando anche le città da dove venite tu per esempio Miriam sei di Maniago e come vedete il Friuli da lontano e da vicino quando ci tornate partiamo proprio da te Miriam beh di recente proprio noi a Londra siamo un gruppo di friulani che a ottobre di quest'anno abbiamo organizzato con l'ente Friuli nel mondo e le altre sette associazioni presenti in regione abbiamo organizzato un evento friulano proprio a Londra su Pasolini e quindi anche tra di noi ci siamo molto uniti per l'organizzazione appunto di questo grande evento e ritornare fa sempre piacere ritornare anche perché a me piace la montagna io sono appassionata anche di trekking di attività all'aria aperta quindi nel Regno Unito insomma non è che ci sono le Alpi non ci sono le Dolomiti e quindi mi devo accontentare di percorsi più pianeggianti e fa sempre piacere ritornare vedere amici mangiare bene soprattutto e delle belle camminate in montagna eh sì Silvia come sono i pasti lì a Londra e se è vero che insomma si torna qui anche per mangiare insomma in un certo modo ma sai no quello del cibo è importante la buona vita è importante no si mangia si mangia bene anche a Londra perché ci sono tante cucine però non è lo stesso perché ci sono tante altre cucine beh sì però non è lo stesso piacere che hai nel trovarti in centro un pane e formaggio salame sì certo assolutamente o goderti le piazze l'aperitivo in piazza che puoi fare a casa perché comunque casa per me è qui anche se sono all'estero come tanti di noi per tanti anni se mi chiedi torni a casa vuol dire torno in Friuli torno a Udine certo insomma e come si guarda quello che succede anche qui anche dal punto di vista giornalistico per dire insomma ti tieni informata su quanto succede qui anche dal punto di vista economico politico insomma come vedi questo Friuli insomma dal punto di vista dell'economia insomma in Italia contiamo qualcosa anche se siamo piccolini ecco però poi magari su altre cose insomma sì il Friuli all'estero è conosciuto poco ed è un peccato ma vuol dire anche che c'è tanta possibilità di crescita e così come tante altre regioni italiane stanno parlando dal punto di vista del turismo stanno diventando più note secondo me ci sarebbe tanto da fare tante cose buone da fare riguardo al Friuli quindi la promozione del turismo ma anche la promozione di tante altre cose degli investimenti in Friuli perché comunque noi freelani lavoriamo sodo lavoriamo lavoriamo bene quindi ci sono dei centri noti o piuttosto nomi noti all'estero ma forse ci sono tantissime altre cose che ancora non sono ben conosciute e sarebbe bello ecco vederle diventare più attrarre l'interesse che meritano sì perché quando dici magari vengo dal Friuli ti guardano come dire da dove oppure hanno idea più o meno che in Italia a nord est mi è successo solo una volta che qualcuno sapesse dov'è Udine si diceva vicino a Venezia no sempre e dov'è il Friuli ed era un editorialista molto noto del Financial Times penso non si è problema a dirlo che è Martin Wolf e mi ha detto ah la regione contestata quindi ci conosceva tramite la storia del Friuli ma altrimenti purtroppo non siamo ma purtroppo è anche un bene significa che da ora in poi ci può essere solo che una crescita grazie ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria poi sentiamo anche gli altri ospiti come vedono il nostro Friuli tra poco ultima parte di Economa IFWG continuiamo con i nostri ospiti a vedere insomma come negli altri paesi vedono il Friuli e come loro stessi mantengono il rapporto il legame con la propria terra Giulio Molinari è di Buia se non sbaglio e quindi insomma Buia ci è tornato per queste vacanze e insomma vive a Zurigo la Svizzera come si vede il Friuli dalla Svizzera e come gli svizzeri vedono i Friulani insomma beh di nuovo come vi ho raccontato prima non tutti conoscono non tutti conoscono così bene il Friuli quindi c'è sempre la risposta da dove vieni si dice eh sì Venezia poi ti muovi un pochettino un altro po' e siamo in questa zona di confine tra l'Austria la Slovenia e con un po' di multiculturalità alla fine anche che caratterizza il Friuli cosa che alla fine anche a quello comune un pochettino si potrebbe fare un paragone con la Svizzera dove Zurigo è una città estremamente multiculturale con immigrazione si può anche dire estremamente forte selezionata ma comunque c'è stata una notevole immigrazione negli anni passati nei secoli passati che ha portato a un livello culturale e un livello di una quantità di persone di culture di competenze di capacità diverse un po' potremmo dire come quello che succede in Friuli dove ci sono di nuovo realtà che hanno delle capacità di valorizzare il territorio penso che questo sia un qualcosa che ci accomuna è un qualcosa che rende in Friuli un po' speciale rispetto alle altre lezioni la prima cosa che fai quando vieni in Friuli quando torni a casa qual è? vado lì per cui abbiamo sentito Miriam dice anche per mangiare per fare una mangiata o per fare una camminata in montagna il cibo è un qualcosa di irrinunciabile quando torno in Friuli ahimè in Svizzera faccio sempre tantissima fatica a trovare lo stracchino mi sono ritrovato addirittura a farlo da me ma non c'è non c'è niente di simile piuttosto che una bella mangiata di formaggi frico quello ci vuole ecco anche in Svizzera abbiamo l'idea insomma no l'orologio Svizzera Svizzera funziona tutto perfettamente è proprio così? ma diciamo che riescono a dare questa impressione hanno coltivato molto bene la capacità di dare questa impressione molte cose funzionano bene ma ovviamente non è priva di difetti la maggior parte delle istituzioni per esempio pubbliche quelle sono fastidiosamente efficienti precise puntuali dopo se uno si trova dall'altra parte per esempio con l'ufficio delle tasse non è più così facile apprezzare il fatto che siano così precisini però effettivamente si dà un'abitudine al funzionamento corretto delle cose ci si può regolare l'orologio con l'orario dei tram quello purtroppo è vero fino a un estremo ad un certo punto perché portarlo a condizioni esagerate di puntualità e di precisione qualche difetto ci vuole essendo dalla fine anche io italiano dico ok un preciso va bene ma troppo preciso forse anche troppo una via di mezzo ci può stare e allora torniamo dall'altra parte del mondo in Australia Melbourne con Ilaria Gianfania insomma in Australia magari dire il Friuli ecco siamo proprio dall'altra parte insomma già dire l'Europa va bene se ho capito siete in Europa va bene in realtà vi sorprenderò sì però la comunità friulana in Australia è insomma diciamo una seconda patria insomma come lo è il Canada l'Argentina sicuramente anche la Svizzera l'è stata in passato o il Belgio ecco però insomma in Australia ci sono tanti tanti friulani ecco quindi anche lì come viene vissuto questo amor per io sono stato un paio di anni fa a Canberra a Perth insomma la comunità friulana è veramente fortissima esatto quindi volevo dire anch'io questo che nonostante la distanza effettivamente gli australiani un po' sanno cos'è il Friuli a dire la verità infatti io stessa all'inizio quando mi sono trasferita ero molto sorpresa di non dover dire il solito vicino a Venezia e quindi sì gli australiani conoscono secondo me molto bene Friuli e Veneto non solo perché c'è stata una migrazione molto forte da parte proprio del nord est ma anche perché i friulani e veneti hanno costruito un sacco di palazzi quasi tutto esatto e quindi effettivamente dal punto di vista poi delle costruzioni i friulani e veneti sono diventati particolarmente famosi e tuttora sono anche proprietari delle imprese che continuano appunto a costruire perché in Australia si costruisce giorno e notte in continuazione le città sono delle metropoli da 5 milioni di avvicanti quindi loro sanno benissimo cos'è il Friuli poi si tratta di un posto estremamente multietnico e quindi in realtà ci sono persone da tutto il mondo e anche gli italiani naturalmente hanno la loro importanza in Australia e gli australiani sono molto curiosi e sono grandissimi viaggiatori molti australiani poi sono italiani e tutto questo di origine italiana e tutto questo per dire che loro sanno benissimo cos'è il prosciutto di San Daniele dove Udine esatto si trova anche tutto in Australia quindi gli australiani in generale sono proprio esperti di cibo italiano di italiani in generale quindi non sono così spaesati quando gli si dice Udine Friuli per fortuna fa sempre piacere ecco Gabriele Bressanghi il luogo del cuore quando si torna insomma si dice vado a casa vado lì cosa si fa appena arrivato a beh ci si rigenera perché vivendo in questa città così caotica dove il silenzio è una componente assolutamente sconosciuta sia di giorno che di notte quindi qui mi rigenero in termini di qualità di semplicità di silenzi trovo certamente affetti amicizie luoghi familiari cibo eccellente e quindi sicuramente è un ritorno sempre molto 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 gradito la friulanità di New York diciamo New York c'è una comunità friulana che è molto molto ben integrata e anche di un certo livello di responsabilità sia nel pubblico che nel privato hanno la loro struttura la solita fame furlane con dei luoghi di incontro hanno anche un ristorante dove c'è gastronomia friulana c'è una settimana all'anno che Italy questa grande catena diciamo gastronomica dedica alla gastronomia friulana ed è in ottobre vi partecipano sempre i nostri amministratori pubblici a questo evento importante che ha molto successo anche perché c'è questa la famiglia Bastiani che è di origine friulana che è contitolare parzialmente contitolare di Italy appunto quindi c'è questo legame che è abbastanza sentito sebbene ripeto i new yorkesi non conoscono il friuli evidentemente qualche accenno all'udinese quelli un po' più addetti diciamo o più interessati alla parte sportiva ma per il resto effettivamente qualche esperto particolarmente nella storia diciamo conosce Aquileia sono gli unici due siti che insomma più o meno sono più abitanti a New York che in friuli praticamente sì sì assolutamente allora stiamo andando verso la fine della trasmissione a Bressan chiedo anche questo insomma abbiamo sentito che insomma quello che vi lega è sicuramente la curiosità di andare per il mondo e di girare il mondo e di vedere il mondo pur mantenendo il cuore qui in friuli insomma come come abbiamo detto un consiglio da dare ai ragazzi che adesso stanno pensando di fare un'esperienza all'estero magari di trasferirsi di vedere il mondo ecco insomma sì perché va bene farlo anche se poi si torna sicuramente c'è una componente diciamo umana che per cui quando si lascia una realtà composta dalla famiglia dagli effetti dalle amicizie ha un certo coinvolgimento che tocca un pochino quello che è l'aspetto morale della persona ma per quanto riguarda le prospettive future sicuramente è molto più ambizioso e con una progettabilità molto più concreta molto più positiva perché il mercato americano per intenderci più che quello europeo probabilmente offre opportunità infinite offre semplicità di ingaggio da parte delle aziende o delle realtà che hanno bisogno di lavoratori e l'italiano è sicuramente apprezzato sia come come profilo di studi che come impegno e come diciamo propensione ad essere a cercare di emergere di affrancarsi anche in un paese straniero quindi sono sicuramente molto molto apprezzati gli italiani senza distinzione assolutamente soprattutto in America dove non c'è questa sorta di attenzione in particolare quindi sicuramente è una prospettiva importante che io sicuramente suggerirei perché è comunque positiva l'aspetto forse è irreversibile nel senso che un giovane che parte per questi luoghi dove ci sono queste grandi opportunità difficilmente poi rientra il proprio paese questo è una realtà che può essere un pochino diciamo l'aspetto un po' negativo se vogliamo si parla di fuga di cervelli qualcuno ogni tanto ritorna è importante che le nostre capacità vadano all'estero e poi magari ritornino arricchite insomma uno scambio in un mondo che è sempre più globale a proposito di girare per il mondo Miriam non abbiamo detto che tu sei anche autrice di un blog che insomma racconta il mondo si diciamo che quando sono rientrata dal mio lungo viaggio in Asia dove ho visitato comunque 11 paesi principalmente nel sud astasiatico a mia volta leggevo per raccogliere delle informazioni come ad esempio attraversare il confine tra Thailandia e Laos leggevo a mia volta blog di viaggi di altri viaggiatori e quindi siccome sono andata in zone anche abbastanza remote dove a mia volta ho avuto molta difficoltà nel recuperare le informazioni ho deciso di aprire il mio blog di viaggi che ho aperto tra l'altro nel periodo della pandemia quindi in un periodo non molto felice però adesso sta andando molto bene per dare dei consigli pratici e utili di viaggio ma soprattutto anche alle donne che vogliono fare la mia stessa esperienza perché comunque nella cultura italiana non è ancora molto popolare questa cosa che la donna prende il suo zaino prende la sua macchina fotografica e se ne vada in giro per il mondo la prima cosa che mi chiedono ma ti sei sentita sicura sembra che il mondo sia così in ospitale brutto però non è così infatti il mondo è molto bello non ascoltate quello che vi dice la televisione perché molte delle informazioni non sono riportate correttamente devo dire che io ho trovato molta generosità nelle persone il mondo è bello quindi è pieno di opportunità sia lavorative che anche umane assolutamente insomma vedere il mondo fa sempre bene siamo proprio in chiusura ma anche a Silvia Ilaria e Giulio voglio chiedere insomma un motivo da dare a chi ci sta ascoltando per fare un'esperienza all'estero allora fatelo assolutamente chiaramente nel mio caso così come nel tuo chi si è trasferito a Londra dall'interno d'Europa era altamente facilitato quando Regno Unito era parte di un'Europa purtroppo con Brexit questa facilità è stata rimossa ma non è impossibile e comunque Londra e Regno Unito non è necessariamente la destinazione da scegliere in ogni caso ma fatelo se avete se siete nel dubbio fatelo aiuta ad aprire la mente aiuta a imparare cose nuove aiuta a conoscere modi di fare nuove persone e culture nuove che poi rimaniate all'estero o semplicemente che comunque rimaniate all'estero ma mantenate il contatto con il paese paese piccolo paese nel senso di nazione d'origine è importante perché è vero che sì poi è vero come dicevamo che è difficile ritornare una volta che ti si apre questo mondo però ci sono degli imprenditori un amico carissimo che è ingegnere nucleare e che ha lanciato una app quindi anche lui ha la sua start up e adesso si è trasferito con la società in Italia perché tantissimi clienti sono in Italia così come un altro amico friulano che è una società di sottotitulaggio per i festival dei film lavora tantissimo con l'Italia quindi comunque queste genialità italiane queste genialità friulane che poi fanno fortuna all'estero ma poi parte di questa fortuna la riportano è un appello un appello non voglio allungarmi troppo ma a chi ci ascolta di chi decide le regole su come aiutare i ragazzi a rimanere qui o a ritornare ecco pensateci eh sì assolutamente Ilaria velocissima ah sì io mi ritrovo tantissimo in quello che hai appena detto nel senso che alla fine io ho aperto una sede a Milano e quindi effettivamente sono rientrata e ho portato il mio lavoro dall'estero all'Italia e mi ritrovo anche moltissimo in quello che ha detto Miriam perché io ho viaggiato mezzo mondo con lo zaino in spalla da sola come donna da sola e il mio consiglio che mi sento di dare assolutamente partite 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 perché di fatto poi si parte e una volta partiti insomma non sarete mai più la stessa persona sarete una persona migliore si spera ma insomma dovrebbe essere proprio così Giulio penso sì sono d'accordo anch'io penso che l'importante sia vedere il viaggio come un'opportunità non come una sfida o un limite perché permette di poi di seguire le proprie passioni e di conoscere nuovi posti nuove cose nuove attività da fare nuovi interessi e poi eventualmente chi sa di tornare a casa qualche volta allora grazie mille a tutti gli ospiti che sono stati qui con noi questa sera Miriam Ferrarin Silvia Pavoni Ilaria Gianfagna Giulio Molinari e Gabriele Bressan tanti auguri di buone feste passatele in famiglia in Friuli naturalmente e grazie a voi che ci avete seguito tanti auguri di buone feste anche a voi e alle vostre famiglie grazie alla regia di Francesco Snidero e Paolo Bassi finisce qui questa puntata di Economo e FVG l'appuntamento per giovedì prossimo buona serata a tutti questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2 Grazie a tutti